Per me l'avvento è prima di tutto vigilanza, cioè essere sveglia, essere recettiva in modo particolare del Signore che viene e che mi viene incontro e quindi lo collego in modo particolare a come mi sveglio alla mattina, cioè quando alla mattina suona la sveglia e io vengo fuori dal letto, che disposizioni ho nel cuore? Se sono desiderosa di incominciare la giornata, incomincio dicendo Signore eccomi, mandami tutto quello che vorrai, io sono sicura che in tutti gli avvenimenti di questa giornata tu ci sarai, sarai presente e io voglio riconoscerti, voglio vedere come mi viene incontro, sono sicura che ci sei, però tieni i miei occhi aperti in modo che io riesca a cogliere il tuo venire e quindi per me è molto importante in avvento in modo particolare ma sempre tutta la vita, perché in fondo tutta la vita è un avvento, però alzarmi subito, appena suona la sveglia non indugiare, essere subito pronta a venire fuori dal letto proprio con il desiderio di andare incontro alla giornata sapendo che il Signore ci sarà, che il Signore ha qualcosa di bello da dirmi, da darmi e io voglio di andare incontro a Lui, quindi non sto a letto, non sto lì ad indugiare perché c'è qualcosa di molto più bello che mi aspetta. Breccia MISCA Van José e María, van hacia Belén, donde il nostro viene di apparecer. Largo è il cammino, aire soffocante, ma è importante cumplire il debere. Din, 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 questo lo dejo a ti, din, 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 un cammino di Belén. Los esposos van, des de Nazaret, los esposos van, des de Nazaret. La Virgen María, modesta es senzilla, è la maravilla del Díso Senere. La Virgen María, modesta es senzilla, è la maravilla del Díso Senere. Din, 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 è sora de partid, din, 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 dormino del Belén. Los esposos van, des de Nazaret. Los esposos van, des de Nazaret. La Virgen María, modesta es senzilla, è la maravilla del Díso Senere. No, 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 no. Viene y así adentran, pará per noccar. Din, 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 es hora de partid, din, 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 cammino del Belén. L'esposso spano, esti Nazareth Grazie a tutti